Gli ho detto cose che si dicono in quelle circostanze, ma cosa dici papà? Stare meglio, vedrai, quest'estate andremo in vacanza sull'isola. Il femminile, la sua potenza di fuoco, la sua bellezza, la sua forza, la sua luce, con cinque donne al centro della scena che prendono parola per l'ultima volta. E dicono di sé, senza diritto di replica, questo è molto altro e un'ultima cosa. Cinque invettive, sette donne, un funerale, lo spettacolo di Concita De Gregorio e Erika Mu con la regia di Teresa Ludovico che ha aperto la stagione 2021-2022 del teatro Kismet di Bari. Un testo scritto per il teatro che qui si pone in una sorta di prima lettura prima di consegnarlo a chi vorrà incarnarlo. Una interpretazione d'autore a queste cinque donne è dedicata un'orazione funebre, immaginando che siano loro stesse a parlare ai propri funerali per raccontare chi sono e chi sono sempre state. Da controcanto ai racconti, le ninnenanne e i canti interpretativi dal vivo della cantautrice pugliese Erika Mu sul palco insieme a Concita De Gregorio. Con un pavarito, debbita il narango, un vestito verde e un merito. Lo spazio scenico è un gioco di geometrie, di quadri luminosi, punti di contatto tra la potenza delle parole di De Gregorio e la voce pura e arcaica di Mu. E così le donne entrano in scena a teatro subito prima di uscire di scena nella vita, come se un momento prima di sparire potessero voltarsi verso il pubblico e dire Ah, resta da dire un'ultima cosa.